Questo servizio fa un effetto che fa riflettere, fa riflettere tantissimi aspetti di un aspetto per esempio che i 1.000 euro che vengono presi in Svizzera e poi c'era una fine di Svizzera molto più avviata l'italiano. Oggi Mario Draghi ha molto insistito di questo aspetto. Un secondo profilo è che l'effetto della globalizzazione è anche un aumento della migrazione per i diversi paesi. Ora è chiaro che la Svizzera non fa parte dell'eurozone, però l'elemento di sofferenza che abbiamo fatto è che la Svizzera non fa parte dell'eurozone, ma l'elemento